Botta risposta distanza tra i soggetti interessati alla vicenda della piscina comunale di Sant'Elia a Brindisi. Dopo il servizio di Antenna Sud che denunciava la situazione, lavori non terminati, disagi di tanti utenti e incertezza sui tempi di riapertura, il consigliere Gabriele Antonino ha portato in Consiglio Comunale un'interrogazione proprio su quella piscina. In quella occasione è stata ufficializzata la rinuncia della Feel Good all'affidamento ed ora sarà emanato un nuovo bando, probabilmente la prossima settimana di 5 anni più 2. Questo quanto dichiarato proprio in quell'occasione dall'assessore allo sport Pinto. Nelle ultime ore il confronto si è spostato sui social tra il vecchio gestore della piscina Pierluigi Francioso e l'assessore Pinto. Pierluigi Francioso incalza facendo assodire chiarezza e affermando che probabilmente il motivo per cui alla Marimissi non fu concessa la proroga, si legge nella nota, fu solo convenienza politica. Per Francioso il ricorso alle proroghe rappresentò solamente una conseguenza della mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione di un nuovo bando di affidamento dell'impianto, nonostante fossero note le date di scadenza. Ed ancora, conclude Francioso, In piena pandemia la legge in vigore consentiva ai gestori di impianti di richiedere una proroga sino a tre anni per garantire il riequilibrio economico finanziario. Ma tutto questo non è accaduto. L'assessore Pinto sul suo profilo Facebook in diversi punti spiega la sua posizione, quella dell'amministrazione comunale, in particolare sul piano di rilancio e revisione, scrive Questa poteva essere giustificata per le associazioni che avevano una concessione in pieno corso. Lo era molto meno perché aveva invece un regime di prorogazio e che per tale motivo aveva già concluso sia il piano economico finanziario che quello di ammortamento degli investimenti. E allora, conclude il consigliere del Partito Repubblicano Antonino, avevamo ragione noi. La decisione di mettere in vendita le piscine comunali era sbagliata alla radice. Frutto della improvvisazione è adottata senza neppure avere fatto a monte una ricerca di mercato per verificare se vi fossero e se vi potessero essere effettivamente degli imprenditori interessati all'acquisto.